Molto brevemente per dire che l'Alleanza Popolare conviene e è contenta della posizione che assume il Governo sui due istanze in questione. Noi naturalmente voteremo a favore. Si tratta di cose anche diverse che sono state accorpate in un unico dibattito. Diverse ovviamente per gli oggetti che vengono presi in considerazione come luoghi e come manufatti. Però c'è un problema a monte che è quello di gestire al meglio le poche risorse economiche di cui dispone anche la stessa Segreteria di Stato al territorio in modo da stabilire quali sono le priorità e quando il Consiglio Grande Generale dà delle indicazioni che alla fine comportano delle spese dovremmo tutti riflettere appunto sul fatto che diamo comunque delle indicazioni di priorità e la coperta come tutti sappiamo è molto corta anche laddove sicuramente ci sono altre necessità di intervento peraltro segnalate anche dai cittadini a livello locale bisogna appunto tenere conto delle risorse disponibili e delle indicazioni che dà il Consiglio Grande Generale. Quindi in generale chiedo e credo che il Consiglio voglia tenere conto di questa particolare situazione. Grazie. Grazie.